Domenico Capogrossi, direttore sportivo della New Team, negli occhi, nel ricordo quella palla che è sfumata veramente allo scadere che poteva risollevare una partita che si era messa davvero male. Sì, incredibile, non si capisce come abbiamo fatto a tirarla fuori, però capita, questo è il pallone, loro sono stati bravi in contropiede a farci tre gol e noi abbiamo provato un pochino di più a giocare, però dobbiamo crescere, queste sono le partite che ci fanno crescere, anche perché si è visto che se ci crediamo riusciamo a riprendere una partita che sta sul 3-0 a mezz'ora dalla fine, questo ci deve dare la spinta per andare avanti. Il rigore fallito da Cicchetti secondo lei può aver influito in bene o in male, cioè vi ha motivato verso una riscossa che poi comunque è arrivata oppure ha spento qualche residuo a speranza? No, io li calciavo i rigori, quindi il mio amico Antonello lo capisco bene, è difficile, bisogna sbloccarsi, certo ci avrebbe dato magari 10 minuti in più di tempo, però poi siamo comunque riusciti a creare le occasioni per pareggiare la partita, quindi non mi sento di recriminare sul rigore, è che dobbiamo cercare di prendere meno gol e di crederci dall'inizio e buttarla dentro, tutto qui. La posizione di Esposito arretrato dalla mediana a centrale difensivo ha sicuramente sortito i suoi effetti, una difesa che era apparsa più solita, forse più granitica, con lo stesso Esposito si è reso particolarmente bravo in determinate circostanze, può essere questa una delle chiavi di questo secondo tempo? Ma io credo che Matteo Di Carlo è un ragazzo che ha giocato anche con il GS Pizzoli e che oggi sentisse molto la partita e non mi sento nemmeno di recriminare su di lui perché sta facendo molto bene e cresciuto tantissimo in questi tre anni, gli faccio i complimenti. Certo, Jacopo è quello il suo ruolo, è molto bravo di testa, è stato molto bravo a capire due o tre occasioni in cui potevano chiudere la partita facendoci il quarto gol, però abbiamo diverse soluzioni per riuscire a risollevarci, ci dobbiamo soltanto credere e poi imparare che il salto di categoria si sente, lo vediamo anche con la Juventus, cambiando molti uomini, noi abbiamo cambiato, abbiamo inserito molti giovani e dobbiamo dare il tempo a tutti di potersi integrare. Si volta pagina da domani, domani c'è il riposo, da dopodomani questo campionato per l'anno in Pizzoli non sarà facile, lo sapete, però la squadra c'è e il secondo tempo di oggi fa ben sperare. Sì, noi non abbiamo, io sentivo a inizio anno insomma qualcuno che magari con l'entusiasmo ho sempre cercato un po' di smorzare e di dire che il salto di categoria è difficile, però abbiamo tutte le possibilità per fare bene e quindi per rimanere in questa categoria, io non sono preoccupato, certo è che dobbiamo iniziare a fare gol e a fare punti, questo è importante. mister Durastante la vediamo sereno, al di là del risultato soddisfatto però di questa gara, soprattutto di questa seconda frazione di gioco della sua squadra. Allora, quando un allenatore perde una partita non può essere sereno, io sono convinto però che la mia squadra, come hai detto tu, è una grande squadra e farà tanti punti in questo campionato. Oggi mi ha dato la dimostrazione, non tanto al primo tempo perché eravamo sotto i tre gol, ma al secondo tempo in un derby tre gol possono ammazzare un po' tutti quanti, invece noi abbiamo creduto di poterla pareggiare e ci è mancato poco, poi le immagini ci sono, ci è mancato veramente poco per pareggiarla, io e i miei ragazzi non possono improverare nulla, sicuramente era il nostro primo derby e noi veniamo da la New Team, la sua storia dice che viene da una terza categoria tre anni fa, quindi un po' di emozione ha giocato a loro favore, sono stati più brevi di noi nei primi venti minuti, però non posso dire niente ai miei ragazzi, solo quello che dobbiamo ripartire da questo secondo tempo perché abbiamo uomini e capacità tecniche per ben figurare in questa campionata. Mister, al di là di quella che può essere l'emozione o comunque la sensazione che si prova in una partita del genere, primo derby, quindi appuntamento importantissimo, non pensa che il secondo tempo forse sia stato giocato meglio anche per qualche correttivo da lei ha portato? Vabbè, gli allenatori spesso non capiscono niente, ogni tanto possono vedere la partita e cambiarla in corsa. Oggi il secondo tempo ha dimostrato che quei due o tre cambi che ho portato hanno dato più velocità, più sicurezza alla squadra e niente, tante volte sbagliamo, tante volte azzecchiamo anche noi dalla panchina. Le sensazioni per lei come cittadino di Pizzoli, come allenatore, come protagonista anche di questa società e di tutto l'ambiente sportivo locale per una giornata bella come questa? È stata una bellissima giornata, è stata una bellissima partita, combattutissima, leale e con una bellissima cornice di pubblico e questo ha dimostrato in maniera forte a tanti, a chi vedrà la partita, che Pizzoli è una bellissima realtà, una bellissima realtà sportiva e può veramente portare due squadre in prima categoria che si faranno valere tutte e due, faranno tanti punti tutte e due le squadre, squadre imbottite di tanti ragazzi di Pizzoli, sia da l'una o da l'altra parte. Oggi è stata una bellissima giornata, un po' meno per noi perché abbiamo perso la partita, ma già da domenica ci rifaremo qui in casa con torno in parte e poi le partite a venire. Gianluca Servilio, dirigente del Pizzoli, primo tempo a tamburo battente della sua squadra, ripresa un po' sotto tono e per poco non ci scappava la frittata. Sì, abbiamo fatto lo stesso primo tempo che abbiamo fatto a venere, 3-0 anche come risultato tutto quanto, però il problema è stato che i minuti finali li sentiamo, forse è un po' la preparazione, un po' i ragazzi che si mettono paura, perché abbiamo in squadra, per esempio oggi, su 11 persone, su 11 ragazzi, 7 erano fuori quota, quindi è una squadra giovane e questo lo pagheriamo in questo senso. Che cosa succede secondo lei? Lei come potrebbe dare una spiegazione a quello che è il rendimento tra una prima parte di gara, giocata bene, una seconda forse con un po' più di remi in barca, in primo tempo tanto pressing, tanto circolazione di palla, seconda un po' più di staticità. Il problema è soltanto quello che le ho detto, è la questione che sono giovani, noi quando giochiamo riusciamo a giocare e non ci stanno squadre che temiamo, il problema è quando tiriamo i remi in barca oppure mettiamo la squadra un pochetto più indietro, lì abbiamo qualche difficoltà, è soltanto questo. Dal punto di vista dell'emozione può avere giocato qualche scherzo? Non dovrebbe perché comunque la prima frazione, l'ingresso in campo è stato abbastanza buono da parte della sua squadra? Certo, no, noi non eravamo problemi in questo senso, il derby non lo sentivamo, anche perché sono tutti i ragazzi che si conoscono tutti, sia dalla parte che dall'altra, sia i dirigenti, siamo tutti amici, adesso andiamo tutti insieme, ci andiamo a fare un terzo tempo tutti insieme, tutti quanti, quindi non ci sono problemi. Rimane una vittoria che vi fa classifica, che comunque vi regala tre punti, ma rimane anche una bella giornata di sport, di fratellanza, di amicizia e soprattutto di capacità dal punto di vista sportivo per tutta la cittadina di Pizzoli, di potersi freggiare di due squadre in prima categoria. Sì, infatti questa è una cosa da rifletterci, perché noi abbiamo la potenzialità come comune, e come paese e come società, le due società, quella di fare veramente far bene se ci mettiamo insieme. Questa è una cosa che stava nascendo quasi per nascere a giugno, non ci siamo riusciti, però abbiamo buttato le basi per il prossimo anno, quindi sicuramente Pizzoli Paese, Pizzoli Comune si merita una squadra di alta classifica in prima, se non in promozione. Quindi lavoreremo per questo. Dichiarazione importante? Certo, è importante, ma lo pensiamo sia noi, gli altri dirigenti. Giustamente quest'anno noi del GS Pizzoli volevamo tutti quanti, i dirigenti, fare l'unione con l'altra società. Non è un problema, ma giustamente noi li capiamo, perché loro venivano da una seconda fatta benissimo, promossi e quindi volevano provare una stagione. Sicuramente questa è una stagione che proveranno e a fine campionato ci metteremo a tavolo, già lo sappiamo, ci mettiamo attorno a tavolo e quasi sicuramente faremo un passo del genere. Ugo Miocchi, la vostra difesa si ha sorriso nella prima frazione di gioco, nella seconda ha avuto molto più da fare. Sì, il primo tempo è stato ben giocato, anche noi ne abbiamo sofferto poco. Il secondo ci siamo abbassati tutti quanti, poi dopo domenica scorsa con dieci minuti abbiamo preso tre gol alla fine. Forse un po' la paura, presi il primo gol, abbassati e loro, c'è da fare i complimenti a loro per la gran partita, ci hanno creduto fino alla fine, poi ci ha detto bene, qualche volta dice bene anche a noi. Che cosa succede ad una squadra che nella prima frazione di gioco, in una giornata così importante, in una partita così sentita, entra in campo, mette a segno tre gol, poi nella ripresa si addormenta? Tu che cosa hai notato, che sensazione hai avuto? È strano, è strano perché ci succede spesso, forse è questione di concentrazione, tutti giovani, forse ci stavano sette, otto fuori quota in campo, mancherà chi comanda, però col tempo stiamo all'inizio, si spera di far meglio. Una squadra molto giovane, come tu hai detto, che però con i correttivi apportati da Mr. Scarcella nella ripresa è apparsa soffrire un po' di più, forse per un discorso dal punto di vista soprattutto della personalità. È una squadra che a tratti è apparsa davvero smarrita, forse da avere e mantenere in campo gente come D'Agostino o gente anche come lo stesso Rotilio poteva dare un po' più di peso in attacco, perché poi in attacco alla fine non si è stati mai incisivi nella seconda frazione di gioco. Ma Tommaso è un gran bel giocatore, dà la profondità, quindi anche quando stai in difficoltà sai che se butti la palla in profondità c'è lui che la sa tenere e ti fa salire. Però anche lo stesso Damiano che è entrato ha le caratteristiche molto simili, solo che purtroppo è entrato forse nel momento più difficile, dove noi non ce la facevamo più, loro ci credevano e quindi non penso sia tanto la colpa dei giocatori che sono entrati, ma proprio un fatto di squadra, di testa, di testa. Al di là di come è finita la gara, voi siete contenti per la vittoria, ma siete contenti anche per aver giocato bene, almeno per metà gara, una partita così importante davanti a un bel pubblico e per aver vinto il primo derby qui a Pizzoli. Sì, sì, penso sia partita così da tutti i giocatori che vorrebbero giocare a queste categorie. Adesso si va festeggiati tutti insieme.